Adesso è difficile fare previsioni, è una fase molto delicata per la Libia perché oggi sono in corso negoziati ad Algeri e domenica avremo al Cairo un vertice trilaterale Italia-Egitto-Algeria e la settimana prossima cominceranno i colloqui finali in Marocco a Rabat. E' chiaro che sono giornate molto rilevanti dal punto di vista del negoziato intralibico e la vicenda della risoluzione delle Nazioni Unite va in parallelo ma certamente è influenzata anche da come andranno le cose nei prossimi giorni. Grazie